la squadra di casa Giampaolo solo il vantaggio del Noi Cattaro Federico Giampaolo sempre più evergreen 1-0 pallone dentro per Franchini prova a superare Petruzzelli che lo stende calcio di rigore va Ciofani va col destro il pareggio della Cisco Daniel Ciofani Romondini in area di rigore per Franchini buono l'aggancio spalla alla porta prova a girarsi va giù calcio di rigore Ciofani ancora contro Petruzzelli va Ciofani ed è doppietta la rosa in profondità pallone che si impegna Ciofani sempre protagonista Chiappara uno sguardo al centro il cross la deviazione Ciofani cala il poker dal Francesca Gianni Cisco Isola Liri Franchini ottimo l'aggancio fa fuori i galuppi converge Franchini in area di rigore Franchini grandissimo gol il primo con la maglia della Cisco corner va Angeletti sul primo pallo Ciofani torsione era strepitosa e gol numero 6 nelle prime tre giornate sempre più Ciofani 2 a 0 Ciofani contro Fiorini è tutto pronto ma Ciofani pallone da una parte Fiorini dall'altra il nuovo Tony è qui in casa Cisco il cross di Angeletti nel cuore dell'aria di Iorio il bomber di scorta c'è Gloria anche per lui altro poker per la Cisco il secondo consecutivo 4 a 0 dal Putili di Barletta Barletta Cisco Roma Angeletti il cross sul secondo pallo pallone che passa c'è Amadio si coordina un gol bellissimo il primo tre professionisti per Stefano Amadio pallone che avanza il Barletta per Mangarano pallone sul sinistro rientra Mangarano al giro ed un gol bellissimo alla Pinturicchio si torna al Flaminio dopo un anno ed otto mesi di distanza dall'ultima giornata Vangeli ti lacrosa dentro Franchini e l'avventura del nuovo stadio inizia nel migliore dei modi Gugnolo zona tiro carica il destro Franchini traversa la balle lì Giovanni dal Romeo Menti di Castellammare di Stabia Juve Stabia Cisco Roma si sente aria di alta classifica due squadre che provano a ottenere il salto di categoria primo e vero proprio scontro diretto può andare in accelerazione chi appara dentro per Franchini ruba il tempo agli avversari Franchini in aria di Piede Soviero Ciofani 1-0 gol numero 9 in campionato per Daniel Ciofani Capparella Capparella Raffaele Franchini Raffaele Franchini gol numero 4 in campionato 1-0 Raffaele Franchini Raffaele Franchini Dallo stadio Flaminio in Roma un cordiale saluto da Marco Cordaro Cisco Brindisi pallone che viene che viene ben giocato da Babu riesce a districarsi tra due avversari pallone filtrante per Belè posizione regolare Belè in diagonale palo Rete il vantaggio della Cisco il primo gol in campionato per Stefano Belè rosso per Doudou e Cisco che rimane in 10 Romondini per Franchini tunnel ai danni di Piccini Franchini la conclusione è un gol pazzesco 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 di Franchini 2-0 corner da parte di Chiappara sul secondo parlo Padella va giù calcio di rigore baciofani rete Ciofani supera il numero 1 del Melfi 1-0 gol numero 10 in campionato per Daniel Ciofani calcio di punizione la battuta il cams pallone che si impegna rogato la sponda Arcamone l'argentino il cross dentro caccavalli 1-0 per il Monopoly Barromondini lancio in profondità per Ciofani che sale in cielo la sponda per Franchini il tocco morbido e questa è una smielata di Franchini l'argentino l'argentino Grazie a tutti